La 27enne alla statunitense Vincent King Jr. è il profilo individuato da coach Pino Sacripanti per completare il roster della Carpegna Prosciutto-Pesaro che per la stagione 2024-2025 disputerà il campionato di Lega 2 in seguito alla marra retrocessione avvenuta dopo 17 anni passati nella massima serie. Prematuro fare previsioni ma la sensazione è che la società del neopresidente Valli abbia intenzione di puntare fin da subito alla vetta della classifica. Fondamentale sarà il rendimento degli americani che per regolamento possono essere solo due e che per questo motivo non possono essere sbagliati. VJ King e Khalid Amad vengono da ottime stagioni in giro per l'Europa con importanti prestazioni anche in Euro Cup e Champions League. L'ultimo tesserato King è un'ala fisica e versatile in grado di attaccare il ferro e dotata anche di un buon tiro dalla lunga distanza. L'anno scorso D'Amburgo ha tenuto una media di 13,4 punti in 26 minuti di gioco. Caratteristiche simili per la combo guarda Amad che a Ostenda viaggiava 17 punti in 23 minuti. Prezioso sarà anche il contributo degli italiani con Sacripanti che ha deciso di puntare sulle esperienze di giocatori che da anni militano in questa categoria e che dunque ne conoscono appieno le dinamiche. A partire dal play titolare Matteo Imbrò fresco vincitore proprio della 2 con la maglia di Trapani. E poi ancora Parrillo, giocatore d'esperienza con qualche comparsa anche al piano superiore. Esperienza che potrà giovare alla possibile mina vagante di questo roster, ovvero il giovanissimo Octavio Maretto, il quale ha già mostrato una parte del suo potenziale durante la scorsa stagione in maglia VL. A completare il pacchetto esterno, il classe 98 Lorenzo Bucarelli, giocatore efficace, specialista difensivo e grande uomo squadra. I dubbi dei tifosi si riversano per lo più sul reparto lunghi totalmente italiano e forse per questo non abbastanza fisico e strutturato per sostenere le 38 partite che lo attendono. Parliamo di Danilo Petrovic, Quirino De Laurentiis ed Eric Lombardi, ma soprattutto del ritrovato Simone Zanotti, giocatori rodati e dalle importanti qualità balistiche, ma non è di certo dei fenomenali rimbalzisti. Al netto di tutto rimane alta la fiducia riposta nelle scelte di Sacripanti, non proprio l'ultimo arrivato e a prescindere dall'obiettivo finale la speranza di poter assistere ad una stagione elettrizzante con giocatori pronti a lottare per la maglia e per riaccendere la passione di un pubblico e di una città che non possono fare a meno del basket.